Musica E ciao a tutti i robetti del web, io sono Master e bentornati sul mio canale Da quanto tempo che non vedevate un video su questo canale, ditemi tanto eh E già ragazzi, oggi sono tornato con questo vlog per avvertirvi appunto dei cambiamenti che stanno avvenendo su questo canale Allora, per prima cosa in descrizione, cliccando qui sulla mia faccia, troverete il mio secondo canale Che è appunto una novità che diventerà il primo canale, mentre questo qui il secondo Per quelli che mi seguono già sulla pagina Facebook lo sanno, perché io ho già da giugno che ho aperto questo mio nuovo canale Dove tratterò nuove tipologie di video che sinceramente a me piacciono molto di più da fare i gameplay Tra quelli che questo canale rimarrà aperto, io continuerò a fare i gameplay Ma avendo un altro canale a cui devo dedicare più tempo appunto, perché i video che farò lì saranno molto più complicati Io vi consiglio appunto i postali della descrizione e iscrivervi se volete continuare a seguirmi Lì farò parodie, cortometraggi, challenge e tante altre cose fighe, quindi andate a iscrivervi Su questo canale come vi sto facendo io continuerò a fare i gameplay, ma saranno di minuto numero Saranno ad esempio un video a settimana, un video ogni due settimane, dipende dagli impegni che avrò Quindi questo canale continuerà a essere attivo, mi raccomando non vi disiscrivete Tutte le serie che diciamo ho in corso su questo canale tranquillamente andranno avanti pian piano Non con gli stessi ritmi che ho fatto fino a queste start, perché come vi ho detto ho aperto questo nuovo canale Dove appunto ci devo mettere molto più impegno perché i video saranno più complicati Bene, questo era quello che vi volevo dire Questo vlog diciamo finisce qui, io vi ricordo in descrizione trovate tutti i miei social La pagina facebook è molto importante per rimanere in contatto con me e tutti gli altri social su cui potete seguire Detto questo, il vlog finisce qui, questo era quello che vi dovevo dirvi Mi raccomando, lascio un mi piace al video per provarmi a continuare a portarvi i gameplay perché so che a voi piacciono Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video Ciao belli!